ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati sul canale oggi è quel giorno dell'anno perché lo sapete la panini ci ha premiato come community mi ha fatto arrivare un po di materiale e quindi ragazzi oggi è quel giorno dell'anno dove ci andiamo ad aprire un box intero delle da ras elite serie a 2022 2023 20 pacchetti da 10 carte ciascuna con l'obiettivo di trovare l'autografo di trovare la memorabilia e soprattutto di spodestare questo perez dal cavalletto perché lo sapete sul cavalletto c'è sempre la carta più rara di quella collezione che stiamo aprendo in quel momento quindi ragazzi non perdiamoci in chiacchiere se vi piacciono questo tipo di contenuti mi raccomando lasciate un like e magari se volete iscrivetevi anche perché qui abbiamo altra roba e altra roba potrebbe arrivare quindi se vi piacciono questo tipo di spacchettamenti mi raccomando rimanete nei paraggi e magari attivate anche la campanella così non vi perdete nulla e quindi ragazzi andiamo ad aprire la scatola sempre con molta cura perché lo sapete queste scatole mi piace sempre tenermele quindi le vado ad aprire con la massima cura mamma mia che bella sensazione ragazzi ci siamo ci siamo eccolo qui il box intero speriamo veramente di trovare l'autografata l'ultima volta con score ci aveva detto anche abbastanza bene perché avevamo trovato il toni autografato quindi speriamo di ripeterci ovviamente ragazzi leggermente fuori dall'inquadratura come sempre slip e top loader per proteggere al meglio le nostre carte vi ricordo che all'interno dei box retail ci sono assicurate 8 parallele e 3 numerate quindi ragazzi non perdiamoci in chiacchiere andiamo subito ad aprire questi pacchetti e vediamo ragazzi di trovare qualcosa veramente veramente di raro ci darei veramente anche non solo ovviamente per metterla magari in collezione in caso rivendere ma proprio per far uscire un bel video con un bel contenuto quindi all'inizio andiamo anche piano sulle basi qui abbiamo la star status abbiamo carboni e dietro c'è il primo fillerone ragazzi questi cartoncini vengono messi per non far pesare i pacchetti perché le memorabilia ragazzi sono un pochino più arte se no poi le persone si vanno a pesare i pacchetti seconda bustina questa la voglio andare ad aprire a mano vediamo se ci riesco senza fare grandi danni attenzione perché qui vediamo un bordo sarà il filler sarà subito la memorabilia per scammarci subito il video al secondo pacchetto vediamo vediamo allora abbiamo cristante montipò pasalic benna sera attenzione la prima spellbound di varascheria che troviamo e sotto vediamo un po quindi abbiamo già i due inserti gaetano vediamo sotto ragazzi vediamo sotto niente fillerone filerone e sotto le altre basi dai dai andiamo più veloci terzo pacchetto e abbiamo sadriano birachita mezze i bagnez inserto di gabbiadini molto bene e sotto vediamo se c'è altro la base è la base di guaraschelia poi abbiamo deulo feo merete no le altre sono basi quindi andiamo avanti quarto pacchettino andiamo a vedere un po di basi vediamo se c'è qualcosa sembrerebbe una una star status no una parallela forse semplicemente una parallela di buonaventura vediamo se sotto c'è altro no semplicemente basi altro pacchettino ragazzi vediamo un po abbiamo barro pessina dunfris milenkovic ragazzi non è vero non è vero la 101 la 101 di gullit non è vero non è vero la 101 di gullit oh mio dio oh mio dio oh mio dio la 101 la 101 oh mio dio oh mio dio ragazzi non la voglio nemmeno toccare oh mio dio no no ragazzi aspettate un attimo mamma mia ragazzi no cioè sto tremando ragazzi no non potete capire non potete capire ragazzi la one of one di gullit mamma mia ragazzi cioè mi trema la voce non so mi tremano le mani ragazzi ragazzi la one of one sta messa anche bene la firma bella nel all'interno dell'adesivo mamma mia ragazzi la one of one di gullit ragazzi mamma mia e questa ce la mettiamo qui questo è ufficialmente ragazzi il colpo migliore che abbia mai fatto da quando io spacchetto ragazzi e spacchetto veramente da tanto ma non ho mai trovato una roba del genere la one of one di gullit mamma mia ragazzi ma che bella che bella e questa penso che si meriterà il cavalletto penso veramente in eterno e che meglio di una one of one back to the future ma di chi ragazzi ma di chi mamma mia cioè io adesso come continuo a spacchettare che mi tremano le mani cioè mamma mia raga mamma mia raga scusate eccomi sono andato un attimo a bere mi sono ripreso un secondo in adorazione di questa firma noi lo spacchettamento come promesso andiamo avanti e ci apriamo tutto il box ma mamma mia anche perché non abbiamo trovato ancora le numerate in realtà però mamma mia raga la one of one cioè l'avrò ripetuto mille volte ma cosa vi devo dire ragazzi ma quando mai mi ricapita una cosa del genere abbiamo qui una red di ederson e qui le altre basi mamma mia raga cioè sono senza parole poi tra l'altro anche la fortuna ve lo dico sinceramente di avere una perché non ci avevo assolutamente pensato di avere un top loader di quelli spessi per far entrare poi vedete perché c'erano poi i filler che poi l'ho ho sentito il pacchetto spesso ho detto sì vabbè tanto è il solito filler no c'era andato un po così e invece raga mamma mia insomma qui abbiamo un'altra spellbound di quara scheria bene ce la mettiamo qui e poi sotto le altre basi mamma mia raga ma già fa caldo no poi c'è così no perché sì mi aspettavo di trovare magari qualche numerata importante ma ovviamente nessuno mai si aspetta una cosa del genere abbiamo qui l'inserto del elite deck di frank andre anzi andre frank zambo anguissa e sotto le altre basi vi devo dire ma cosa posso chiedere di più cosa posso chiedere di più all'interno di questi pacchetti più di questo cosa cosa ci poteva essere ragazzi non lo so non lo so veramente tra l'altro raga cioè sono io o questo è stato un pacchetto scam con nove con nove carte invece che dieci infatti manca la parallela sono io che ormai non capisco più nulla o manca manca qualcosa vabbè cioè se il box è questo e pacchetto scam per poi trovare per poi trovare l'autografo one of one di una leggenda a me va benissimo però non so poi magari rivedo in video con più calma perché sinceramente ora non è che ci sto capendo poi molto ma voglio continuare a spacchettare perché insomma se spacchettate pure voi vi penso riuscite a immedesimarvi un po in quello che mi sta passando per la testa per il cuore e non solo ragazzi mamma mia qui abbiamo augustin alvarez sotto la orange numerata su 30 di gabriel strefezza ovviamente per le nostre numerate lo sapete sempre sleeve e top loader che a pensarci per togliere perez dal cavalletto bastava già questa una 30 e già sarebbe stata più rara ma insomma sul box ancora non si vede il fondo ragazzi per il momento una sola numerata o meglio due con l'autografo e tra l'altro sapete che non so se l'autografo viene contato nelle nelle numerate ma ora tanto lo scopriamo subito qui abbiamo una parallela di faraoni e poi abbiamo paoletti pellegri losano frattesi e dessers e comunque ragazzi se questa collezione mi stava piacendo ora potete immaginare che dopo aver trovato l'autografo ancora di più e sarò comunque molto legato anche in futuro a questa collezione inevitabilmente per quello che abbiamo trovato attenzione numerata numerata su 15 di dominguez e continua a dirci decisamente bene ragazzi perché dopo la numerata su 30 la numerata su 15 l'autografo one of one quindi anche a livello di numerate ci sta dicendo veramente veramente bene pacchetto molto molto cicciotto ma io immagino che qui ci sia il filler dai ragazzi abbiamo già trovato la one of one sì dai quello sarà il filler ragazzi no dai non è possibile dai dai quello sarà il filler quindi andiamo un pochino più veloce star status di quagliarella sotto abbiamo ma mai raga pensavo fosse questo il filler back dello spezzio eccolo qua il fillerone dai dai giusto così capitano pellegrini e poi sotto vediamo un po chi c'è e c'è la red di pongracic del lecce che poi veramente raga c'è ma one of one così migliore di gullit cioè ma chi mi poteva uscire veramente ci sono pochi pochi nomi è migliori di quelli poi si va bene magari si può andare a gusto personale ci sta magari qualcosa della roma da difoso però insomma ecco a proposito di difoso della roma abbiamo anche la spellbound di dibala quintultimo pack se i miei calcoli raga non sono errati andiamo ad aprire vediamo chi c'è qui sotto vediamo questo pacchetto se c'è qualche altra numerata intanto insert di viscia kvaraskaya che ovviamente essendo ce ne tantissime si troverà veramente tantissime carte di di kvaraskaya ma è normale così cominciamo a vedere il fondo quindi ultimi quattro pacchettini per noi e andiamo ragazzi allo spacchettamento vediamo un po c'è kostic scouten colpani e poi abbiamo leandro leonardo scusate spinazzola raul bella 9 sotto chi è questo a e la red di udoci e raga è passato qualche minuto mi sto cominciando a riprendere mamma mia raga mamma mia ma non so quanto mi sono ripreso realmente però sicuramente un pochino meglio ci sto sto capendo cosa sto facendo eccola qui la field vision la prima sono contento perché almeno ve la faccio anche vedere field vision di destini udoge carine anche se sapete che in orizzontale a me non fanno impazzire le carte però così sul terreno da gioco secondo me ci sta veramente tanto ultimi due pacchetti per noi uno un pochino più cicciotto uno un po meno ci andiamo ad aprire questo licenzi brosovic scesni sotto la star status di giovanni e il sciolito simeone e poi abbiamo luca romero e via via tutte le altre basi ultimo pacchetto per questo super box che conteneva la one of one raga poi abbiamo ienna e sotto l'inserto di coop miners elite deck il protagonista di oggi e penso per un bel po' sarà proprio lui rude gullit autografato back to the future one of one davanti a questa carta raga io non ho tanto altro da aggiungere se non ringraziarvi che siete arrivati fino alla fine di questo video e io vi auguro questa fortuna e una buona giornata buona fortuna raga